Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi segnalo che nei formaggini della Galbani si trovano gli sticker dei Puffi All'interno in regalo uno sticker Più in più ogni giorno impaglio uno zaino con il tuo nome Uno zaino ovviamente brandizzato Puffi E vedete qui sotto se lo vincete potete scrivere il vostro nome Allora, voi lo sapete che io sul canale vi porto sempre tutte Tutte le collezioni che escono nei supermercati Nelle patatine, negli ovetti, in edicola Vi porto le action figure, quelle che escono Quelle nuove che escono adesso, più anche quelle vecchie Quindi Retro Toys Insomma sul canale ragazzi arriva di tutto Dato che mi sto ammazzando per aprire i formaggini Insomma vi presento un po' il canale Soprattutto se è la prima volta che arrivate a questo Poi ci sono i video ragazzi mi sto ammazzando Comunque ci sono i video ma non c'è un modo No, ok, si si deve aprire per forza così E poi ci sono anche, vedete si deve aprire per forza così ragazzi Poi ci sono anche i video insomma sui manga, sui fumetti, sui libri Insomma ragazzi sui videogames c'è di tutto e di più Quindi iscrivetevi al canale Eccolo qua il nostro sticker, adesso lo apriamo E mi ammazzerò di nuovo per aprire questo sticker Allora, apriamolo da qua dietro Ci siamo fatti aiutare da un coltello Altrimenti ragazzi Perché era troppo tirata la bustina Non l'avremmo mai aperta Comunque questo è il nostro adesivo Puffo Chef Eccolo qui E qui potete anche colorare Puffetta Vedete, colora i personaggi dei buffi Qui sotto c'è qualcos'altro? No, qui sotto non c'è niente Sotto ai formaggini non c'è niente Vabbè ragazzi vi ho segnalato questa piccola iniziativa di Calbani Appunto che si trova nei formaggini Allora ragazzi Si conclude qui questo video Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace a questo video Commentate questo video Condividete questo video In the box ci sono tutti i link alle altre pagine social del canale Seguitemi anche lì Sempre in the box c'è il link al blog Se volete fateci un salto E noi, come al solito, ci becchiamo Al prossimo video Ciao belli